Bravo sei, in silenzio radio. Attivate le notifiche così non vi perdete nessuna live sul mondo di Call of Duty. Prima di iniziare vi voglio lasciare un sondaggio così venite a votare sia sul canale Telegram e scrivete qui sotto nei commenti. Ragazzi siete d'accordo con la scelta dell'Infinity World di ogni settimana cambiare le playlist andando a rimuovere altri già presenti? Ieri sera è toccato a terzetti, a mio avviso una delle modalità più divertenti di Warzone sostituita dalla nuova modalità sempre terzetti ma soltanto con i cecchini e i fucili a pompa. Fatemi sapere la vostra perché veramente ultimamente questa cosa mi sta un po' scocciando, tolgono shipment, tolgono showtouse, non vengono rimesse, tolgono terzetti, tolgono modalità divertenti per metterne altre. Non capisco perché non riescono a metterne di più per accontentare tutti quanti quindi voglio sapere la vostra e con l'occasione così votate anche sul canale di Telegram che trovate con il link in descrizione. Ma partiamo subito con il video informativo perché Activision ha annunciato il Live from Warzone, nuovi tornei che si svolgeranno questa settimana con la presenza di influencer, celebrità e giocatori professionisti per spingere il gioco. Sono stati svelati due nuovi bundle in arrivo appunto in questa settimana appena arrivati all'interno del negozio Twin Dragons e Clean Up Crew, il primo a 1300 Call of Duty Point, il secondo a 2000 Call of Duty Point e poi andateli a vedere direttamente nel market. Come vi avevo annunciato ieri era attesa una nuova patch, aggiornamento interno che come sempre ha mandato praticamente in palla i server, infatti i server verso le 18.15 sono andati offline mentre eravamo in live per una manutenzione, infatti l'Infini World ha dichiarato che in questi giorni rilascerà una serie di piccoli mini aggiornamenti per migliorare sempre di più la sicurezza dei server. Ma cosa è successo ieri? Praticamente nell'aggiornamento vi faccio innanzitutto un riassunto generale e poi entriamo proprio nelle specifiche tecniche. Allora innanzitutto è stata aggiunta la modalità zona di lancio al posto di deathmatch dominio all'interno del multiplayer, è stata aggiunta la modalità follia pura, un mosfet 10 contro 10 di modalità uccisione confermata, frenesia, dominio e deathmatch a squadre, è stata rimossa la modalità realismo NVG. Ovviamente è stata lasciata la playlist Season 3 con le tre nuove mappe multiplayer arrivate appunto con l'ultima stagione. All'interno di Warzone è stata rimossa la modalità trio semplice, quindi terzietti, ed è stata aggiunta la modalità cecchini e fuciglia canna liscia in versione trio. Vediamo i fix generali. Corretto il grafico delle statistiche della pistola Rinetti che apparivano scorrettamente. Aggiunta l'icona alla killcam che mostra se si è stato ucciso da un giocatore con silenzio di tomba o potere d'arresto attivo, risolto un bug audio relativo all'SKS nel quale si sentiva un rumore forte dopo che l'arma era stata presa da terra e poi ricaricata. Risolto un problema su PC dove i giocatori perdevano la possibilità di usare l'equipaggiamento da campo mentre si stavano mettendo le corazze e mentre si stava acquistando qualcosa dalla stazione d'acquisto, risolto un bug relativo alla skin Brother Keeper dell'operatore Azure che mostrava il casco sbagliato durante le partite multigiocatore. Nessuna informazione invece in merito al bonus dei 10 livelli che continuano ad essere arrivati ad alcuni sì e ad alcuni no. Ieri ho scritto nuovamente pubblicamente all'Infinity World ma non mi hanno dato risposta, spero quanto prima che ci siano informazioni a riguardo. Vi faccio vedere una variante dell'SKS perché me l'avete chiesto veramente in tantissimi come poterla accessoriare. Potreste mettere ad esempio l'ottica come un mirino a zoom variabile, il calcio, l'F-TAC Hunter Scout, munizioni, i caricatori da 10 colpi e nel sottocanna mettere il calcio anteriore da comando. Così ragazzi è veramente molto forte l'SKS e la potreste anche già utilizzare all'interno di Warzone. Vi ricordo che su Twitch quando siete in live troverete tutti i comandi dedicati alle armi che utilizzo di più, quindi punto esclamativo MP5, punto esclamativo M4, punto esclamativo Grau, per vedere anche la variante multiplayer e Warzone che utilizzo all'interno del gioco. Questo è tutto quello che vi voglio dire in merito all'aggiornamento di ieri. Vi annuncio che questo fine settimana sono stati annunciati i doppi punti. Sicuramente si attiveranno venerdì sera alle ore 19 e termineranno lunedì, poi vi darò i giorni esatti. Intanto comunque ieri l'Infinity World l'ha annunciato. Saranno soltanto punti doppi multiplayer e doppi punti arma, non si parla di doppi punti del Battle Pass. Mille mi piace per questo video informativo. Vi aspetto alle 13.30 in live su Twitch così nerderemo su Warzone e passate a votare nel sondaggio che vi dicevo ad inizio video su Telegram. E noi appuntamento a domani ore 7 con un nuovo video informativo qui su YouTube.